Il produttore è Pietro Valsecchi, Il produttore è Pietro Valsecchi, Il produttore è Gennaro Nonziani, Il produttore è Luca Medici, Il presidente consegna la prima a Pietro Valsecchi, Il produttore è Pietro Valsecchi, Il produttore è Superfábio e desenvolupi, Il presidente vecchio valsecppi, Il presidente vecchio valwa, Il generale valore, ありがとうございました! Confesso che mi porto una domanda perché è col Zalone, è proprio qui sta nel cuore e ne approfitto per fare la sua sera. Zalone, ma tu da me. L'altra settimana ero a San Severo di ritorno dal Gran Sasso e lì, nel chiosco della chiesa di San Sardino mi si avvicina un esponente di quella fascia umana ascrivibile alla stagione che si sovrappone tra neonatologia e infanzia scolarizzata, o come direste voi ignoranti, un bimbo. Un bimbo di 6, 7, 16 anni o forse anche 66, dicendo c'era la sua nella sua era. Questo bimbo era muto e atonito al mio cospetto, ma nei suoi occhi silenti ugualmente potevo leggere impietusi alcunque video. Presidente, che ne sarà nella mia esistenza artistica con questi dati dei fusi? Potrò seguire i passi di grandi cineasti come Christos Ziesolowski o Akiro Kurosawa, margato lo sberleppo del governo con questi tagli dei fusi? Al che io, a questo bimbo, ho regalato il mio sorriso e lui mi ha detto e rida bacia a fuori. Grazie a tutti. Ciao a tutti.